Ripartiamo dalle prime pagine, da quella del Corriere della Sera che parla in apertura delle riaperture. Tornano le zone gialle a maggio e poi Draghi alla Lega, no ai dispetti e la Didi Pfizer che dice a settembre faremo la vita di prima sulla prima pagina del Corriere, così come su tante altre prime pagine. Lo scatto che vince il concorso World Press Photo 2021 di un fotografo danese e ritrae un ospite di una RSA in Brasile che dopo cinque mesi riceve un abbraccio, siamo a San Paolo. Lo scatto che ritroviamo anche sulla prima pagina di Repubblica, anche qui il titolo di apertura però è sulle riaperture. Il calendario della ripresa si riapre dal 3 maggio e poi la politica con Lega e Meloni contro Speranza e Letta e Conte che dicono una vergogna di numeri. Qui si parla sul Sole 24 Ore, sono le misure per la ripresa, deficit all'11,8% e debito record al 159,8%. Sulla stampa invece ritorna il tema delle riaperture. Riapriamo tutto in un mese, Draghi che dice poi Salvini, basta dispetti. Vediamo anche il messaggero, Lazio, AstraZeneca ai volontari, regione apripista. Sul vaccino anglosvedese, dosi ai cinquantenni che lo vorranno. Per concludere diamo uno sguardo anche allo sport e alla prima pagina della Gazzetta che ci parla di Florenzi, Jolly per Conte. Il tecnico è un Inter sempre più italiano e poi sulla prima pagina anche Grazie Roma il titolo per la partita di Europa League e il sofferto 1-1 con l'Ajax. Grazie Roma, quindi titolo scelto dalla Gazzetta.